L'orante, braccia aperte e elevate al cielo, e la colomba con il ramoscello d'olivo nel becco, sono i simboli dell'anima nella pace del paradiso. La colomba che becca l'uva è il credente che si nutre dell'eucaristia, cibo di risurrezione. Il pesce, simbolo di Cristo, in greco si dice ictus. Le lettere iniziali danno origine ad un acrostico. Gesù, Cristo, di Dio, figlio, salvatore. Cristo buon pastore, immagine molto familiare nella chiesa primitiva, è la guida sicura ai pascoli di erbe fresche, colui che non abbandona mai, che dona la vita per le pecore e non fa mancare nulla. Il monogramma di Cristo, composto dalle due lettere dell'alfabeto greco, la chi e la ro, sono le iniziali della parola Cristo.